E' una sorpresa per te. Bisogna che apri quel video con Mauro, devi metterti le cuffie. Devi lasciare qualcosa? No, no. Sono bene questo. Questo si chiama mango. Mango? Si mangia questo. Certo. Si mangia. E' un morso questo. E' un morso questo. Qui avevi iniziato a camminare qua, sai? Avevi tipo un anno, appena più di un anno. La nostra vecchia calma, calma vecchia. Ma guarda te che si deve andare a prendere proprio questa acqua. Com'è che fa Leo là? Pì. 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 Pì fatti mettere subito i calzini da papà Leo no come no? vieni qua no 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 ti fai mettere i calzini da papi? no shhh passate la voce come vai no? eh no papi perchè non ti posso mettere i calzini? no 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 dai papi metti i calzini ma tu mamma papi ti ricordi un po'? no no leila schioccale bratta schioccale bratta schioccale ditta che te 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 stio tu schioccale bratta? schioccale ditta dai non vuoi sentire questa cosa? la beve di da valida guarda la mano guarda saluta ciao 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 ragazzi io qui ancora non... ehi attenzione che cadere avanti eh non facevo i video è solo che adesso la mamma mi aveva fatto questo questo mi ha fatto questo video per mi ha fatto questo video così però fammi vedere come fai saltellio però non facevo ancora i video ha fatto la volta ancora ancora non sapevamo di fare saluta che io andavo su youtube abbiamo finito? e ancora sono pulite le mani vedi come sono pulite ti ricordi qua? no 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 come faccio? no correva il nome ahahah perché ora non corre più? ahahah adesso col pancione ahahah 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 ma posso vedere? no io volevo dire come funziona con l'aspirapolvere lì vediamo fammi vedere è caduta è caduta vediamo fammi vedere fai vediamo qui avevi due anni sai vediamo un po' vediamo si mette per terra e poi e poi si fa fa così fa così fa così quella era la tua aspirapolvere ahahah ahahah poi non c'ero davanti alla porta qui ero già a casa qui ero lì tre anni io 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 ho sbagliato però non mi ricordo qui ti ricordo qui ahhh ahahah ahahah ahhh sull'anero qui qui me lo ricordo ahhh ahhhh ahhh ahhh ahhhh ahhh ahhh Anche! Un momento! Qui ti fa? Tio! No mamma! Dove fai nonno? Nonno! Sono arrivato! Piano piano! Sono arrivato! Manteniti lì! Manteniti lì! Manteniti lì! Avevi sempre questa cosa di accendere lì! Arriva, mamma! Arriva! Grazie a te! Ciao! Ciao! Un attimo! Un attimo solo! Quindi ricordi! Sì, ci sono un po' impegnato! Ma questa pista non si può congiungere? Sì si può congiungere! Ma ci sono altri pezzi? No, vedi? E' finita così? E' finita così! Si sono così tutti! Qui cominciamo a accampare! Quello è il ricordo! Che fai? Leo? Ehi! Ehi! Apri! Ehi! Leonardo! Due anni e mezzo a verità! Apri subito! Ehi! Ehi! Eccolo, eccolo, eccolo! Fermati! Fermati! Stai più fermo possibile! Dov'è? Qui c'era tanto freddo e i merli venivano a mangiare da noi! C'ero lì! Ehi! Chiamolo! Ehi! C'era tanto la che si muove! F, F, M, C, O, P, Q, R, S, Q, U, W, X, Y, Z Ti è piaciuto? Sì Ciao Questi sono alcuni dei vostri disegni Leonardo Di con Mauro e Tricci Ci danno tanta allegria, c'è la simpatia E i video di Leonardo Di